Grazie. L'ultima volta che vidi Miguel de Verne fu anche l'ultima volta che lo vide la moglie, Luisa, il che continua ad apparire strano e forse ingiusto dal momento che lei era questo, sua moglie. E io ero invece una sconosciuta e non avevo mai scambiato con lui una sola parola. Non sapevo neppure il suo nome, lo sapevo soltanto quando ormai era tardi, quando comparve la sua foto sul giornale, pugnalato e mezzo scoperto, e sul punto di trasformarsi in un morto, ammesso che già non lo fosse per la sua stessa coscienza assente, che non tornò più a farsi presente. L'ultima cosa di cui si dovette rendere conto era che lo stavano accoltellando per sbaglio e senza motivo, cioè in maniera imbecille, e oltretutto una volta e poi ancora un'altra, senza via di scampo, non una sola, con l'intento di eliminarlo dal mondo e di scacciarlo senza dilazione dalla terra, seduta stante. Tardi, per cosa? Mi domando. La verità è che lo ignoro, solo che quando qualcuno muore, pensiamo che ormai si sia fatto tardi per qualunque cosa, per tutto, tanto più per aspettarlo, e ci limitiamo a darlo per cancellato anche i nostri congiunti, sebbene ci costi molto di più e li piangiamo, e la loro immagine ci accompagni nella mente quando camminiamo per le strade, in casa, e crediamo per molto tempo che non ci abitueremo. Ma sin dall'inizio sappiamo, sin da quando ci muoiono, che non dobbiamo più contare su di loro, neppure per le cose più insignificanti, per una telefonata banale o una domanda sciocca, me le hai lasciate lì le chiavi dell'auto? A che ora uscivano oggi i bambini? Per nulla. Nulla e nulla. In realtà è incomprensibile perché presuppone avere certezze e questo è in contrasto con la nostra natura, quella secondo cui qualcuno non verrà più, ne dirà null'altro, ne muoverà mai un altro passo, né per avvicinarsi, né per discostarsi, né ci guarderà, né distoglierà lo sguardo. Non so come resistiamo, né come ci riprendiamo, non so come dimentichiamo a tratti, quando il tempo ormai è passato e ci ha allontanati da loro, che sono rimasti fermi. Io ringrazio Isabella Ragonese che ha introdotto questo incontro con la scrittura dell'ospite che ho l'onore di potervi porgere stasera attraverso questa conversazione che spero sia il più informale possibile, come deve essere la conversazione, non tra due scrittori ma tra una fan e un maestro, perché questo è Javier Marias. Mi sono esercitata nella pronuncia del nome, come mi è stato consigliato. Non è molto complicato. Non è molto complicato se nasci in Sardegna si pronuncia così, magari se nasci a Torino si pronuncia Javier o una cosa del genere, quindi è sempre meglio comunque, suppongo, temo anzi che mi abbiano scelto per questo, perché erano certi che sarei stata in grado di pronunciare correttamente il suo nome. Ma dopo Javier Bardem è più facile, la gente sa. Questo anche è vero. Non ho davvero bisogno di presentarvelo, nel senso che Javier Marias ha regalato così tante belle storie, e una scrittura così ricca, un linguaggio così pieno, così differente, spesso dalle penne rapide e stagionali che ogni tanto invadono i nostri scaffali, questo è uno scrittore che resterà. Sta già restando, almeno io non posso non farci conti ogni volta che scrivo, quindi questa prima domanda vuole essere anche un tributo, se vogliamo. E' una domanda che parla di fantasmi, nel senso che questo libro qui, Gli innamoramenti, che è il libro di cui parleremo stasera, è un libro pieno di fantasmi. C'è la memoria fantasmatica di un morto che sin dalla prima fino all'ultima pagina non smetterà di essere una presenza nella vita degli altri protagonisti, per quanto sia ampiamente sottoterra. C'è poi il fantasma di almeno tre libri, c'è Macbeth di Shakespeare, c'è i tre moschettieri di Dumas e c'è il colonnello Chabert di Balzac, che vengono ripetutamente citati all'interno del libro in maniera esplicita. Le persone del libro, attraverso questi testi, spiegano talvolta le loro azioni e intenzioni o cercano di prevedere le conseguenze, appoggiandosi a quell'immaginario per sostenere la propria realtà. C'è anche però un terzo piano di evocazione, e questo riguarda lei come autore del libro, io credo. Nel momento in cui lei inserisce con così smaccata chiarezza le citazioni di queste opere, sta dicendo che i loro autori sono in qualche modo i suoi fantasmi. e non so se è così, e in tal caso si è scelto una buona compagnia. Però mi domando, è possibile scrivere ancora una storia nuova quando si scrive con una compagnia così ingombrante? Prima di tutto, grazie, prima di tutto vorrei menzionare un fantasma recente, è vero, della vita reale, non di quella della finzione. e questo che Isabella Ragonese ha appena letto, e altri brani che leggerà durante questa serata. A proposito, mi scuso per il mio italiano, lo tento di parlare perché mi sembra che sia più agile, più comodo per tutti, ma farò degli sbagli, eccetera, e avrò dei dubbi. Sì, ma queste parole teoricamente sono parole mie, ma infatti quello che lei ha letto sono piuttosto, o almeno tanto mie, quanto del traduttore, il traduttore Glauco Felici, che ha tradotto la maggior parte dei miei libri in italiano e che purtroppo è morto subitamente un paio di mesi fa. Non so se questo sia l'ultimo libro che lui ha tradotto, ma vorrei prima di tutto menzionare questo fantasma, anche perché sono le sue parole in italiano quelle che venite di ascoltare. e con questo voglio ringraziare Glauco Felici per tutto quello che ha fatto per me in Italia con le sue traduzioni di miei libri. Per quanto riguarda l'altra cosa, sì, la presenza dei fantasmi è una cosa abbastanza, fantasmi in un senso, lei ha parlato in un senso un po' esteso, ma io ho persino scritto alcuni racconti di fantasmi come genere e almeno un paio di racconti, infatti il narratore era un fantasma che parlava e diceva questa vita di adesso è molto peggio di quella di... e non per le ragioni abituali, ma perché ricordo tutto, ricordo tutto quello che... ricordo i momenti di attesa in un aeroporto, cose che normalmente non ricordiamo più e allora mi vengono e ricordo ogni dettaglio della mia vita e questo è una maledizione e anche e soprattutto perché adesso so tutto, anche, so tutto e so delle cose... mi sembra ricordare che questo fantasma narratore di un racconto, quando era mortale, si chiamava, diceva, era molto meglio quel tempo della clemenza, cioè il tempo della vita sarebbe il tempo della clemenza quando uno non sa tutto, quando uno ignora tante cose e questa è una benedizione in un certo senso. Adesso so, per esempio, come è stata la mia morte, non lo sapevo nel momento di morire e chi l'ha ordinata e perché è successa, esattamente come è successa mentre che è stata una morte violenta, ecco. Allora, una delle ragioni per avere così presenti i fantasmi e per utilizzarli anche come narratori è che ho sempre pensato che il punto di vista del fantasma è un punto di vista eccellente per raccontare. del fantasma letterario parliamo, ovviamente, e l'idea che tutti abbiamo del fantasma è uno che di una parte da una parte è uno che non è già qui al quale niente può più accadere perché tutto è successo già in vita sua. Ma allo stesso tempo non è uno indifferente, non è uno che dica beh, me ne frego di tutto questo perché non sono più, sono morto e no, giustamente l'idea che abbiamo tutti del fantasma letterario è uno che torna giustamente perché non è indifferente ancora e tenta tante volte tenta di intervenire di favorire le persone che ha amato oppure di punire quelle che le hanno fatto male eccetera eccetera. Allora il fatto di raccontare una cosa come se uno fosse già fuori la storia diciamo è allo stesso tempo una storia che non si racconta diciamo in un modo indifferente in un modo annodino mi sembrava un punto di vista straordinario per sempre mi è sembrato un punto di vista non è facile aggiungerlo soprattutto se uno racconta senza essere se uno racconta cioè un personaggio racconta senza essere un vero fantasma come quelli di questi racconti che menzionavo ma in questo libro sì in questo libro diciamo c'è c'è questa presenza di questo morto del quale si parla nella primissima pagina del romanzo e ci sono anche altri c'è e c'è questa idea è una delle idee del libro che percorrono il libro grazie in parte a questa novella di Balzac il colonnello Chabert della quale i personaggi parlano io penso che non c'è niente di metà letterario o di no semplicemente i personaggi parlano di un libro che hanno letto come si parla normalmente ho letto questo libro ho visto questo film tratta di questo e mi ha fatto venire questa idea per esempio è curioso che allora come i bambini almeno quando io ero bambino si raccontavano i film anche è una cosa normale parlare è una parte della vita anche la finzione non è che sia diciamo una cosa meta letteraria si parla in un modo normale persone normali che sono più o meno coltivate più o meno educate ma non non troppo a proposito il personaggio devo dire che il personaggio principale del romanzo che è quello che parla per la prima volta di questo romanzetto di questa novella di Balzac è uno che non si sa cosa fa nella vita e questo l'ho fatto a proposito ma poi parliamo di questo se 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 lei vuole in questo romanzo si questo personaggio l'utilizza per dire normalmente quando perdiamo quando muore una persona che amiamo molto che vogliamo bene benissimo normalmente ci permettiamo tutti di avere una grandissima nostalgia di desiderare anche che questa persona potesse potesse tornare probabilmente se questo fosse possibile che non lo è normalmente nella letteratura è un po' più possibile succede più spesso di quanto non succeda nella vita vero o nei film ma può darsi di credere che qualcuno è morto e poi torna e la storia di questo colonel Chabert è uno che ufficialmente è morto in una battaglia napoleonica e poi anni dopo e dopo tantissime penalità si dice bene torna per trovare che la sua moglie sono 6 7 anni penso una cosa del genere è stato ferito in questa battaglia ha avuto grandi difficoltà per tornare a Parigi eccetera e quando finalmente torna scopre che la sua moglie è sposata di nuovo ha avuto due figli piccoli con questo nuovo marito eccetera eccetera e allora se qualcuno come il colonel Chabert in Balzac tornasse dipende ovviamente ma se pensiamo a questa possibilità se uno che muore uno che amiamo bene ovviamente torna tre giorni dopo come Cristo per esempio allora va bene probabilmente ma se torna cinque anni dopo la sua morte è possibile che cominci ad essere piuttosto una disgrazia una vera catastrofe non so per esempio un padre mio padre è morto sette anni fa quasi sette anni fa e lo volevo benissimo era anche abbastanza abbastanza amico mio e parlavamo molto era anche scrittore filosofo piuttosto e avevamo avevamo cose cose di parlare eccetera eccetera ma se tornasse adesso in un certo senso per cominciare miei fratelli ed io cosa faremmo con lui dove lo mettiamo la sua casa nel suo caso nella sua casa e c'è ancora la casa no ancora non l'abbiamo venduto ma potremmo averla venduto e allora avrebbe ci sarebbe bisogno di portarlo forse da noi da alcuno dei fratelli e poi la sua eredità i soldi per esempio magari li abbiamo spesi già allora di che cosa viverebbe lui una volta tornato sarebbe magari un grandissimo problema allo stesso tempo se si pensa per esempio in un marito in una moglie può darsi il caso come quello del colonnello Chabert che la moglie o la vedova o il vedovo si sono recuperati hanno rifatto la sua vita hanno continuato e come succede in quel in quel romanzetto di Balzac quello che era ci troviamo nella contraddizione tremenda che la perdita di una persona è stata una vera catastrofe e il ritorno di questa persona è una catastrofe è anche una catastrofe tutto una catastrofe e allora forse ci permettiamo di desiderare una cosa perché sappiamo che questa cosa non può darsi non può arrivare e allora in questo romanzo si prende questa possibilità un po' sul serio con questo esempio si dice ma è uno dei ragionamenti che il personaggio di Diaz Varela Javier Diaz Varela si chiama il personaggio maschile principale dice si questo mio amico questo uomo che è morto è il miglior amico di questo Javier Diaz Varela al quale la narratrice per la prima volta ho avuto una narratrice femminile in prima persona sarebbe il miglior amico di questo morto e allora c'è un momento nel quale lui a proposito della sua lettura di questo romanzo dice no una volta che le cose succedono devono rimanere successe è meglio che sia così è un pensamento un po' cinico se si vuole ma spiega perché lo pensa c'è una frase nel libro nella quale se non ricordo male si parla della terribile forza dei fatti o della terribile forza del presente di dire le cose i fatti una volta di questo sappiamo molto in politica tante volte le cose si fanno una volta fatte c'è un'espressione almeno in francese feta compli non so come si dica in italiano noi si chiama condono 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 si chiama condono si una volta fatto il resto un eccio consumato in spagnolo un eccio consumato un po' lo stesso di feta compli ma condono è un'altra cosa si era una battuta mi perdoni non la capita in Italia quando viene commesso un reato che infrange c'è una legge che non è diciamo si costruisce dove non si deve costruire quando è fatto è fatto allora si fa una legge di condono che dice quel che è fatto è fatto si si ma si questo è un grandissimo problema che anche in Spagna abbiamo noi in questo momento il problema che ma e allora la gente che ha comprati queste case che sono vicinissime al mare dove in principio non si poteva costruire eccetera allora beh allora i fatti i fatti dice questo personaggio i fatti sono quello che sono devono rimanere non bisogna tentare di cambiare le cose è un libro un po' devo dire c'è una dimensione del libro che è un po' pessimista perché anche sarebbe un libro sull'impunità in un certo senso ma parlavamo del fantasma mi sono andato via mi sono deviato poi ci arriviamo anche al tema dell'immunità dell'impunità mi scusi è un lapsus non da poco questo scusate in Italia forse le due cose si confondono sempre di più chiederei a Isabella di leggerci un altro pezzo in modo che possiamo anche inquadrare meglio un'altra nota della scrittura di Javier Marias Silda il primo giorno mi risultò evidente che erano una coppia sposata lui più o meno 50 anni e lei diversi meno non doveva ancora aver compiuto i 40 la cosa più gradevole in loro era vedere come stavano bene insieme a un'ora in cui quasi nessuno ha voglia di niente tanto meno di divertimento e risate parlavano senza sosta e si divertivano e si stimolavano come se si fossero appena incontrati o persino conosciuti e non come se fossero usciti insieme di casa e avessero lasciato i bambini a scuola e si fossero preparati allo stesso tempo forse nello stesso bagno e si fossero risvegliati nello stesso letto e la prima cosa che ciascuno aveva visto doveva essere stata la scontata figura del coniuge e così un giorno dopo l'altro da abbastanza anni dato che i figli che li avevano accompagnati un paio di volte dovevano avere sugli otto anni la bambina e sui quattro il bambino che somigliava enormemente al padre lui vestiva con distinzione lievemente antiquata senza arrivare ad apparire ridicolo né anacronistico in alcun modo intendo dire che era sempre ben vestito e intonato con camice su misura cravate costose e sobrie fazzoletto che sporgeva dal taschino della giacca gemelli lucide scarpe allacciate nere o anche scamosciate queste soltanto alla fine della primavera quando indossava abiti chiari manico la manicure nonostante tutto questo non dava l'impressione di essere un professionista presuntuoso né un fighetto ad oltranza sembrava piuttosto un uomo la cui educazione non gli permettesse di uscire in strada vestita in altro modo almeno non nei giorni lavorativi in lui risultava naturale quel genere di indumenti come se il padre gli avesse insegnato che a partire da una certa età era quello che gli toccava indipendentemente dalle mode che nascono già caduche e dai cenciosi tempi attuali che non avevano ragione di riguardarlo era così classico che non colsi in lui mai neppure un particolare stravagante non voleva fare l'originale anche se finiva per risultare un po' tale nel contesto di quel caffè in cui l'ho sempre visto e anche in quello della nostra città negligente l'effetto di naturalezza era evidenziato dal suo carattere indubbiamente cordiale e allegro se non confidenziale non lo era con i camerieri ad esempio ai quali dava del lei e che trattava con cortesia desueta senza cadere nel melliflu di fatto attiravano un po' l'attenzione le sue frequenti risate che erano quasi fragorose anche se in nessun caso moleste sapeva ridere lo faceva con forza ma con sincerità e simpatia mai come se adulasse né con atteggiamento di ossequio ma sempre come se reagisse fosse a cose che lo divertivano davvero e fossero molte quelle che lo divertivano un uomo generoso pronto a cogliere l'aspetto comico delle situazioni e entusiasmarsi agli scherzi perlomeno a quelli verbali forse era sua moglie che lo divertiva nell'insieme vi sono persone che ci fanno ridere anche se non se lo propongono ci riescono soprattutto perché ci danno gioia con la loro presenza e così per metterci a ridere ci basta molto poco soltanto vederle e stare in loro compagnia e ascoltarle anche se non dicono nulla dell'altro mondo e addirittura inanellano sciocchezze e battute deliberatamente che comunque ci divertono tutte quante l'uno per l'altro sembravano essere di quelle persone e se anche apparivano stanchi non ho mai colto il loro un gesto sdolcinato né impostato né pure studiato come quelli di certe coppie che vivono insieme da anni e si compiacciano nell'esibire quanto continuano a essere innamorate come un merito che le rivalorizza o un ornamento che le abbellisce era era piuttosto come se volessero risultarsi simpatici e piacersi prima di un possibile corteggiamento o come se provassero tanta stima affetto reciproci sin da prima del matrimonio o anche di mettersi insieme che in qualunque circostanza si sarebbero scelti spontaneamente non per dovere coniugale né per comodo né per abitudine neppure per lealtà come compagno o accompagnatore amico interlocutore o complice con la certezza che qualunque cosa potesse accadere o verificarsi o si dovesse raccontare o ascoltare sarebbe stata sempre meno interessante o divertente con una terza persona senza di lei nel caso di lui senza di lui nel caso di lei vi era dimestichezza e soprattutto convinzione e chi non lo vorrebbe un amore così lo vorremmo tutti tuttavia nel suo romanzo per sua stessa dichiarazione c'è una critica letteraria alla presunzione dell'amore come forza sempre positiva all'idea che in nome dell'amore sia meno grave commettere reati in nefandezze o anche semplici passezze la convinzione che l'innamoramento sia un buon alibi è però un po' colpa della letteratura cioè sono stati gli scrittori a convincerci che fosse così sì non so diciamo che sì l'amore o l'innamoramento e per l'innamoramento io capisco due cose il processo di innamoramento e lo stato di innamoramento sono cose diverse normalmente si parla di innamoramento come un processo come quello che sta accadendo e poi basta invece penso di no penso che c'è una cosa diciamo passionale questi momenti che la gente conosce alcuna gente o molta gente conosce di guardarsi agli occhi tutto il tempo e non uscire del letto o cose così e poi si direbbe l'innamoramento finisce più o meno qua la passione invece io penso che si può essere convinto di essere innamorato di una persona al di là di questo processo iniziale ma comunque tutte le due cose hanno una bella reputazione in generale si potrebbe dire così si pensa che è una cosa positiva si pensa che è una cosa per alcuna gente anche necessaria la sua mancanza sembra una maledizione per alcuni i giovani che ancora non lo hanno provato sono incuriositi almeno sono impazienti talvolta quelli che non hanno provato davvero non so perché si può provare questo sentimento si può provare con sette anni ovviamente ma diciamo che tanti giovani aspettano che questo arrivi in un modo più reale e anche si pensa normalmente che è una cosa positiva che è una cosa buona che è una cosa che ci fa meglio migliori persino che ci fa più nobili più generosi più bravi eccetera e questo può darsi a volte ovviamente ma anche ma anche può essere esattamente il contrario io almeno certamente ho conosciuto persone a lungo vita mia a lungo vita mia a lungo la mia vita a lungo la mia vita a lungo la mia vita persone che erano nobili e generose che giustamente per essere innamorate sono diventate meschine anzi miserabili hanno avuto degli atteggiamenti che normalmente loro normalmente avrebbero condannato come una cosa impropria di se stessi e invece hanno caduto in questi atteggiamenti giustamente perché erano innamorati anche c'è una lunga tradizione anche nella letteratura di cose bruttissime fatte diciamo anche per amore dunque è una cosa che può darsi che sia che sia positiva che sia negativa che sia che faccia la gente migliore o che la faccia molto peggiore questo si vede anche nel romanzo e poi c'è anche c'è anche questa questo sì forse un po' colpa della letteratura tradizionale c'è questa tendenza degli innamorati a pensare che c'è stato un po' di come dire un po' di destino nel loro trovarsi è molto molto frequente che le coppie le coppie piaccia ricordare come si sono conosciuti come si sono trovati e poi dire ah se io non fossi andato quella volta quella sera a quel posto allora non ti avrei mai conosciuto oppure se non avrei fatto questo viaggio cose del genere e allora c'è una certa come dire complacenza complacenza compiacimento ecco un certo compiacimento nel pensare che c'era siamo fatti fatti l'uno per l'altro questo genere di cose questo non è questo non è così veramente questo questo non stranamente è così normalmente normalmente si parte di una delle limitazioni brutali per esempio il normale sarebbe di di fare coppia di diventare una coppia con uno della propria città o del proprio paese o probabilmente dello stesso livello lavorale o dello stesso ambito lavorale per esempio dipende anche di chi sia libero perché tante volte uno avrebbe amato qualcuna o qualcuno che non è libero chi diventa libero anche perché non era libera ma poi è libera per esempio è diventata una liberata sì se parlo femminino è perché dal mio punto di vista non è per un'altra ragione dal mio punto di vista pensarebbe in un femminile una vedova per esempio allora dipende anche di chi ci guarda chi ci considera perché tante persone non ci considerano assolutamente e si dice nel libro penso che si dica una cosa non so come si dice in italiano una rifa un sorteggio che a volte sembra come un sorteggio di fiera in una fiera alla fine dell'estate cioè quando già tutti i premi sono stati dati a lungo all'estate allora chi resta vediamo chi resta no che questo è il normale questo è tanto normale e allora è un po' difficile accettare questa unicità questa questa destinazione questo intervento del destino nel nell'innamoramento dunque forse non è non è per caso che tanti che tanti matrimoni e tante coppie al po' di un po' di tempo dopo un po' di tempo non non andano bene perché diciamo la persona forse era si dice in spagnolo si dice plato di seconda messa cioè piatto piatto di seconda tavola si direbbe letteralmente non so come se ci sarà un equivalente probabilmente no? si capito cioè qualcuno che è stato rifiutato per la prima opzione e allora viene dopo guardi questa signorina mi ha detto di no allora tento con lei e allora la seconda forse forse nemmeno del secondo plato ma del terzo plato eccetera e allora tante volte è possibile che poi c'è un altro elemento diciamo di prestigio si potrebbe dire che in tutte queste vicende no? in tutte queste vicende che il fatto di amare sembra un merito in se stesso molto 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 spesso dice sì ma ha amato tanto si dice come se questo fosse una cosa in un modo un po' simile a quello che si dice anche ha sofferto tanto come se soffrire soffrire ovviamente soprattutto se se qualcuno ha sofferto senza meditarlo ed è una cosa degna di compassione degna di pietà ovviamente ma non non è un merito in se stesso o non dà la ragione le vittime per esempio le vittime delle cose anche le vittime del terrorismo ne abbiamo tante in Spagna e ovviamente sono degne di tutta la compassione di tutta la solidarietà possibile della parte della società ma quando subitamente le vittime si 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 riuniscono e fanno un movimento non so come dire allora cominciano a chiedere delle cose precise delle cose concrete non sempre hanno ragione ma c'è una tendenza a dargli la ragione perché sono vittime perché hanno sofferto no sono degne insisto di compassione di aiuto di solidarietà ma non non hanno guadagnato la ragione per questo neanche uno che ha amato molto e poi non so in Italia in Spagna ancora purtroppo sempre di meno ma ancora abbiamo tanti crimini cosiddetti passionali no si l'amava tanto che si che l'ha amazzato questo si dice c'è anche questo detto la maté perché era mia questo è un detto così in spagnolo la maté perché era mia proprio un proverbio eh? si si un proverbio la maté perché era mia anche la maté perché l'amava questo è un po' contraddittorio francamente no ma è una cosa che è esistito per secoli soprattutto verso le donne e che ancora esiste in un certo punto si va veramente ha perduto la testa tutto quanto c'è un certo prestigio c'è una certa giustificazione delle cose si dice tante volte si ha fatto questo e ha fatto l'altro ma e che era veramente molto innamorato allora il libro anche parla di questa delle cose orribili delle cose brutali delle cose veramente invericunde si può dire in italiano meno male che non lo conosceva l'italiano come? un termine molto ricercato no a volte è un italiano un po' dedotto dall'espagnolo si può dedurre un po' delle cose si fanno delle cose così e tante volte si giustificano un po' perché il motivo diciamo era un motivo amoroso e allora mi sembra che questo dovrebbe cessare di dire no guarda il motivo non non è più importante ma in questo senso è un libro di nuovo anche un po' pessimista anche un po' molto dissacrante di sicuro un po' ombroso ombroso sì molto dissacrante quindi se avete la poesia in testa sull'amore questo libro vi mostra i lati oscuri invece dell'amore io sentirei un altro un altro pezzo non mi riusciva di essere simpatica neppure con un altro romanziere che si firmava Garai Fontina così due cognomi senza nome di battesimo gli doveva sembrare originale ed enigmatico ma faceva venire in mente un arbitro di calcio e riteneva che la casa editrice dovesse risolvergli qualunque difficoltà o contrattempo anche se non avevano la minima relazione con i suoi libri ci chiedeva che andassimo a prendere a casa sua un cappotto e lo portassimo in tintoria che gli mandassimo un tecnico informatico o degli imbianchini o che gli trovassimo un alloggio a Trincomale o Batticaloa e che ci occupassimo di tutti i preparativi per un suo viaggio privato laggiù le vacanze con la sua signora tirannica che di tanto in tanto ci telefonava o appariva di persona e non chiedeva ma piuttosto ordinava il mio capo aveva in grande considerazione Garai Fontina e lo compiaceva attraverso di noi non tanto perché lui vendesse molto quanto perché gli aveva fatto credere che lo invitavano spesso a Stoccolma io sapevo grazie a una coincidenza che ci andava sempre per conto suo a tramare nel vuoto e annusare l'aria e che gli avrebbero dato il Nobel sebbene nessuno lo avesse chiesto per lui pubblicamente né in Spagna né in nessun'altra parte nemmeno nella sua città natale come succede spesso lui lo considerava cosa fatta tuttavia di fronte al mio capo e ai suoi subordinati che arrossivano nel sentirli pronunciare frasi come mi dicono le mie spie nordiche che succederà quest'anno o il prossimo o ho già imparato a memoria in svedese quello che dirò a Carlo Gustavo durante la cerimonia lo farò a pezzi non avrà sentito mai nulla di così feroce in vita sua e per di più nella sua lingua che nessuno impara e che cos'è che cos'è gli domandavano il mio capo gli domandava il mio capo con una citazione anticipata lo leggerai sulla stampa mondiale il giorno dopo gli rispondeva Garai Fontina con orgoglio non ci sarà un solo giornale che non lo riprenderà e dovranno tradurlo tutti dallo svedese perfino quelli di qua non è divertente mi sembrava invidiabile vivere con tanta fiducia in una meta sebbene entrambe fossero fittizie la meta e la fiducia io cercavo di essere molto diplomatica con lui non volevo certo giocarmi il posto di lavoro ma adesso mi pesava in maniera indicibile quando mi chiamava presto con le sue pretese smisurate Maria mi disse al telefono una mattina ho bisogno che mi procuriate un paio di grammi di cocaina per una scena del nuovo libro che qualcuno me l'allunghi a casa il prima possibile in ogni caso prima che faccia sera voglio vederne il colore alla luce del sole in modo da non sbagliarmi dopo ma signor Garai Garai Fontina cara te l'ho già detto Garai e basta e quasi chiunque nei paesi baschi in Messico in Argentina potrebbe essere addirittura un calciatore insisteva tanto su questo da convincermi che il secondo cognome fosse inventato guardai sulla guida di Madrid un giorno e non vi appariva nessun Fontina ma soltanto un certo Lorenz Fontinoi nome ancora più inverosimile quasi da cime tempestose o forse lo era l'intera combinazione si chiamava in realtà Gomez Gomez o Garcia Garcia o qualunque altra ridondanza che lo offendeva se si trattava di uno pseudonimo quando lo avevo scelto di sicuro ignorava che Fontina è un formaggio italiano non so se di mucca o di capra che si fa in Val d'Aosta mi pare e che la gente fa fondere più che altro ma insomma in fide i conti vi sono anche delle noccioline che si chiamano borghes non credo che questo lo avrebbe turbato sì signor Garai Fontina scusi per abbreviare un po' ma senta non potei evitare di dirgli anche se non era di certo la cosa che contava per il colore non si preoccupi le posso assicurare che è bianca con la luce del sole e con la luce elettrica lo sanno quasi tutti compare molto nei film non ha visto quelli di Tarantino a suo tempo o quell'altro di Al Pacino in cui se ne faceva dei mucchietti fin qui ci arrivo cara Maria mi disse risentito vivo su questo sporco pianeta anche se sembra che non sia così quando sto creando ma fammi il favore di non sottovalutarti tu non ti limiti a fabbricare libri come la tua collega Beatrice e tanti altri ma che oltretutto li leggi e hai occhio mi diceva cose del genere ogni tanto immagino per tenermi dalla sua parte io non gli avevo mai espresso un'opinione su nessuno dei suoi romanzi non ero pagata per farlo quel che temo è di non essere preciso con gli aggettivi vediamo tu mi puoi precisare se si tratta di un bianco lattiginoso o di un bianco calcareo e la consistenza è più come gesso testato o come zucchero come sale come farina o come borotalco dai dimmi mi trovai coinvolta in una discussione assurda e pericolosa vista la suscettibilità dell'imminente vincitore io stessa mi c'ero cacciata come la cocaina signor Garai Fontina per come stanno le cose non c'è bisogno di descriverla perché chi non l'ha provata l'ha vista tranne le persone anziane forse che comunque l'avranno vista in televisione mille volte mi stai dicendo come devo scrivere Maria se devo o non devo mettere degli aggettivi che cosa è giusto che io descriva e che cosa è superfluo stai dando lezioni a Garai Fontina no signor Fontina ero incapace di chiamarlo sempre con i due cognomi ci volevano secoli e la combinazione non suonava bene non mi piaceva il fatto che tralasciarsi Garai non sembrava infastidirlo troppo se vi chiedo due grammi di coca per oggi ci sarà una ragione sarà perché questa notte il libro ne avrà bisogno e a voi interessa che ci sia un nuovo libro e che ci sia senza errori no? la sola cosa che dovete fare è procurarmeli e mandarmeli non mettermi in discussione o devo parlare personalmente con Eugenie naturalmente non esistono scrittori così che chiedono cose del genere che hanno queste pretese con la casa editrice benché gli inaudiani in prima fila ridano e facciano così con la testa è tutto falso è una finzione letteraria che però ci dimostra che a dispetto dei temi anche poderosi e un po' cupi che abbiamo trattato fino adesso la vena ironica direi giocosa comica di di Marias è molto presente anche in questo libro si è divertito scrivendolo sì io mi diverto sempre è vero che anche se i miei libri possono essere no mi scusi la domanda è vera perché diciamo la verità a chi pensava quando ha scritto queste pagine mi scusi perché io sono sempre molto diplomatica sono proprio famosa per questo sì però la domanda vera mi sento di dirlo con sincerità in questo momento a chi pensava quando ha scritto quelle pagine c'è una miscolanza si dice una miscolanza di no c'è un un capitolo perché la narratrice lavora in una casa editrice come si si può dedurre di questo brano e allora bisognava anche un po' darle un contesto al suo personaggio al suo lavoro forma parte questo brano forma parte della caratterizzazione del personaggio della narratrice e allora racconta un po' non soltanto quello ma di altri scrittori è normale che una persona che lavora in una casa editrice si è abituata a trattare gli scrittori in un modo non so come dire consettuale familiare così e alcune delle cose che si raccontano su alcuni scrittori alcune sono inventate altre sono semi vere altre sono totalmente vere e persino c'è una c'è un'allusione a me stesso in un momento lei questa narratrice c'è anche anche ci sono pazzi che ancora che ancora scrivono con la macchina da scrivere che bisogna poi fare si scaneare lo scanner eccetera questo sarebbe io che scrivo con la macchina da scrivere allora probabilmente obbligo ai miei editori a fare un lavoro un po' superfluo diciamo e poi ci sono altri esempi ma c'è uno per esempio che è vero c'è uno degli aneddoti che lei racconta è di uno scrittore che dopo un soggiorno di tre giorni a Madrid ha lasciato un conto di lavanderia si dice un conto di lavanderia di non so di 200.000 pesetas che sarebbe 2 milioni di le antiche lire una cosa del genere sarebbe sì anche anche di più forse un po' di più allora questo è vero per esempio un autore latinoamericano ha saputo che ha lasciato questa e allora lei dice non so se aveva portato con lui tutta la tutte le la roba da casa la roba da casa come si dice le lenzuole le lenzuole e tutto per approfittarne no non si capiva veramente in lavanderia tanta cosa in lavanderia o cosa ha fatto durante quelli tre giorni non so questo è vero per esempio altri no questo della cocaina per esempio no questo sarebbe sarebbe un aneddoto piuttosto inventato ma ho saputo degli scrittori che chiedono delle cose che prendono veramente le case editrici come se fossero un po' maggiordommi o quasi questo è vero e questo gli editori qua lo possono testimoniare senz'altro forse non lo faranno perché qualche autore si potrebbe sentire alludito ma è così a volte io tento di essere molto rispettoso sulla cosa del Nobel io almeno due o tre li ho pensati quello del Nobel sì ho saputo di alcuno che non che faccia che prepari il discorso in svedese questo no questo ovviamente sarebbe un'assagerazione ma qualcuno che parla di questo con normalità diciamo a una tavola sì perché quando io ricevo il Nobel così come una cosa sicura normale sì questo sì questo probabilmente più di uno lei ha detto e qui faccio mia una domanda che viene da uno dei lettori del circolo lei ha detto questo è il mio primo io narrante femminile le chiedo come è stato beh non esattamente il primissimo ma quasi perché avevo utilizzato una prima persona di donna diciamo in un raccontino abbastanza anni fa ma è una cosa piccola breve poi c'era una scena nella quale una donna si presenta un casting per un film porno perché ha bisogno di guadagnare i soldi eccetera ma poco dopo comincia a raccontare lei poco dopo conosce al partener quello che sarà il partener nel film porno allora questo partener comincia a parlare lui dunque prendeva diciamo il discorso lui no è la prima volta che e la verità è che all'inizio mi sono sentito un po' scomodo sì è anche un po' timido i miei narratori che sono sono stati nella prima persona tutti almeno dal 1986 quando ho scritto quando ho pubblicato l'uomo sentimentale sono troppo abituato alla prima persona potrei avere raccontato questa storia nella terza persona ma sono diciamo che i vantaggi della prima ci sono anche svantaggi ma il vantaggio della prima persona è troppo forte sono troppo abituato per considerare adesso scrivere in un altro modo e allora tutti questi miei narratori maschili fino a questo romanzo sono cugini sono simili sono persone differenti con nomi differenti ma sono abbastanza simili e questo non mi fa problema è un po' la stessa voce che parla sempre con diverse maschere piccole maschere in questo caso sentivo forse che magari una donna non farebbe questo scherzo per esempio magari non direbbe questo in questo modo magari questa è un'espressione troppo maschile diciamo cose del genere fino a quando c'è stato un momento non so quando avevo scritto 50 pagine qualcosa del genere che ho pensato beh alla fine ci sono ovviamente tante differenze fra le donne e gli uomini ma non giustamente non sono principalmente nella testa e si racconta o si scrive soprattutto con il cervello quello che fa uno che narra e soprattutto ecco raccontare osservare guardare e riflettere e in questo senso io non vedo che ci siano tante 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 differenze o almeno ci sono tante differenze fra alcune donne e alcuni uomini come siano fra alcune donne e altre donne o alcuni uomini e altri uomini allora ho deciso beh sì e perché non può fare questo scherzo sì lo può fare anche io ho conosciuto tante tante donne che la cui testa diciamo non ho avuto la sensazione di pensare in un modo diverso e allora mi sono sentito più comodo quando il libro è uscito in Spagna un anno e mezzo fa diciamo ricordo che la maggior parte delle donne che l'hanno nel letto che mi hanno parlato o mi hanno scritto hanno approvato questa donna questa narratrice e hanno detto persino alcune erano contenti dicevano di vedere una donna che non sottolineava tutto il tempo il fatto di essere donna che non lo sottolinea continuamente che non è che non è è una persona è una persona semplicemente che non dice ma ecco ma sono donna o si giustifica o spiega o ha una vindicazione di non so non si sa cosa no no è semplicemente una persona che racconta racconta come le donne possono raccontare lo stesso poi c'è stata alcuna forse ultra femminista che ha detto ah no ma una donna non parla così e una donna non reagisce così e allora questo mi ha sembrato è un pericolo di quelle ultra femministe che diventano macistas perché questo è una cosificazione o una animalizzazione della donna al mio parere si può dire un cane non fa così o un gatto non fa così ma non si può dire questo delle persone vero una donna non esiste le donne sono un cane una donna non si reagisce o non reagisce dipende non so dipende dipende lei prima accennava al tema dell'impunità sì nel discorso alla consegna del premio nonino che lei ha ricevuto lei aveva anticipato i temi di questo romanzo un po' sì l'avevo appena finito allora aveva dichiarato che uno dei più pressanti per lei era appunto questo dell'impunità cioè proprio la constatazione che nessuno o pochissimi paghino per per le cose che fanno cioè e che questo sia considerato socialmente vincente cioè che uno che scampa alla giusta sentenza magari per prescrizione o per altri motivi lei diceva se ne gloria e dice ecco l'ho scampata quindi non solo l'impunità ma anche la presentazione positiva dell'impunità questa aspirazione alla giustizia che c'era nel discorso alla retribuzione delle colpe non è però presente negli innamoramenti perché io mentre leggevo quel discorso mi veniva da chiederle perché se per lei la questione dell'impunità è così pressante non ci ha regalato un personaggio giustiziere no no giustamente perché perché quello diciamo non è che io abbia mai scritto romanzi diciamo realisti no ma diciamo tento che non siano a meno che sia un racconto di fantasmi eccetera che già il lettore si si installa in un genere particolare e accetta la convenzione tento che i miei romanzi siano piuttosto verosimili anche dunque quello che succede in questo romanzo è giustamente una cosa che mi sembra che succeda sempre di più nella società non è soltanto quello che ha detto che tanta gente adesso in Spagna in questi ultimi giorni abbiamo scoperto scoperto tra virgolette no abbiamo scoperto che ci sono questi indulti si dice anche in italiano indulti si 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 dice quindi indulti che dà il governo cioè la giustizia ha condannato a qualsiasi persona ma poi la giustizia come si come il re antici può dire beh questo è l'indulto e allora si è scoperto fra virgolette di nuovo che ogni anno il governo indulta più di mille persone più di mille diversi diversi deliti recentemente lo scandalo è venuto perché quattro poliziotti catalani che avevano torturato a uno che avevano arrestato per per errore l'avevano torturato e allora sono stati condannati una volta sono indultati un'altra volta intervento il tribunale supremo ha deciso di condannarli di nuovo e allora il governo li ha indultati per seconda volta una cosa pazzesca mille persone poi banchieri poi e allora il ministro di giustizia ha detto sì ma questa è una potestà che è al governo i giudici non hanno nulla da dire su questo i giudici hanno fatto il loro lavoro hanno condannato qualcuno vabbè ma poi il governo ha questa potestà e allora se i giudici protestano perché i giudici stanno protestando se i giudici protestano alla fine quello che stanno facendo è tentando di usurpare una attribuzione che è del governo capisce capire capire è molto difficile questo discorso per un italiano da capire no no immagino che non sia difficile non so se avete indulti immagino di sì anche immagino di sì allora quello che quello che succede quello che è verosimile diciamo è quello che la novella il romanzo il mio romanzo rifletta è che questo ha permeato si dice la società si può dire quello grazie ha permeato la società in un modo che la gente più sente che la giustizia è una cosa che non che non ci concerne più a noi ci sono questi professionisti della giustizia e anche se noi sappiamo che qualcuno ha fatto questo qualcuno ha fatto l'altro il normale è dire va bene non tocca a me non sono io e poi sarebbe inutile probabilmente o anzi potrei avere grandissimi problemi se sono io chi chi denuncia questa cosa e soprattutto non tocca a me non è cosa della società più non è più cosa della società e allora diciamo che l'atteggiamento di uno dei personaggi del romanzo sarebbe un po' questo e c'è un momento verso la fine del libro nel quale dice o pensa in quel momento la giustizia me ne fregava me ne fregava non me ne importava non era questa questione e poi c'erano anche altri elementi che mi facevano tacere diciamo e nemmeno raccontare questo questo è un problema veramente questa è una questione che l'impunità è una questione che almeno in Spagna è così complicata che nemmeno nemmeno io e dico nemmeno io non perché io mi consideri una persona con un giudizio particolarmente chiaro sulle cose ma dico nemmeno io perché veramente ho pensato molto su questa vicenda e nemmeno io ho chiaro cosa si deve fare per esempio con quelle cose della guerra civile non lo so ci sono delle persone che dicono no si deve sapere tutto si deve io a volte penso sì sì è giusto che si sappia è giusto che la gente possa ovviamente la gente che lo vuole possa disinterrare di sotterrare disinterrare disinterrare i morti che sono nelle fosse comuni eccetera eccetera come tanti vogliono adesso allo stesso tempo a volte penso se non fermiamo le cose alcuna volta veramente sarebbe impossibile continuare le cose le cose di una parte penso le cose devono essere sapute le cose devono essere ricordate in altri momenti penso no le cose devono essere dimenticate prima o dopo alcuna volta devono essere dimenticate perché se no non si potrebbe vivere diciamo il numero di crimini il numero di cose successe nel mondo quando succede in questo momento non so quello che è successo due secoli fa quando i francesi hanno invaso la Spagna questo non importa nessuno due secoli sembrano abbastanza ma la guerra ancora importa e sono più di 70 anni dalla fine della guerra io a volte penso quando io ero giovane cioè negli anni 70 avevo 20 anni diciamo la guerra di Cuba quello che da noi si conosce come la guerra di Cuba era accaduta nel 1898 della quale particolarmente io sapevo più di quanto non sapessi normalmente gli spagnoli della mia età perché una delle mie nonne era cubana e giustamente lei aveva tornato in Spagna nel 1898 quando Spagna ha perso la Cuba c'è stata questa guerra fra la Spagna e gli Stati Uniti sono strano vero? la Spagna e gli Stati Uniti in guerra nemmeno si sa già quando io ero giovane e avevano passato 70 anni di questa guerra era una cosa così remota anche per me che avevo questa nonna anche per me era una cosa e invece la guerra civile è finita già più di 70 anni fa e non è ancora remota non è ancora 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 gente io sono già un po' vecchio ma non troppo mio padre ha sofferto questa guerra i nonni della gente dei miei nipoti per esempio l'hanno sofferto è ancora una cosa terribilmente presente e a volte penso basta basta si deve dimenticare le cose perché se non si dimentica se non si dimenticano le cose non si può vivere non si potrebbe vivere e allo stesso tempo penso no no questo non lo so e allora questa storia dell'impunità l'impunità recente è sempre inaccettabile ma l'impunità remota comincia ad essere forse un po' più accettabile ma non lo so è una cosa sulla quale io non sono nemmeno convinto di cosa si deve fare una volta Alicia Jimenez Bartlett la sentì parlare di questo tema e lei disse esattamente quello che sta dicendo lei adesso cioè non se ne può parlare ma non si può non parlarne e per cui io lo racconto che mi sembra la giusta mediazione cioè utilizzo la letteratura per rendere giustizia a quella memoria sì è un'opzione possibile non sarebbe mai la mia per rendere giustizia attraverso la letteratura non si fa è vero che attraverso la finzione attraverso la letteratura attraverso il cinema molte cose non si dimenticano del tutto o si sanno anche se a volte si sanno in un modo un po' approssimativo diciamo un po' non scientifico no? è vero di sì che a volte la finzione sembra l'ultimo come dire l'ultimo rifugio rifugio della storia la storia forse vive più nelle finzioni che si occupano di di un fatto storico che nella vera storia che legge molta poca gente no? allora forse sì si può fare così ma diciamo farlo con questo animo non sarebbe questo dal mio punto di vista sarebbe dare troppa importanza alla letteratura e alla sua capacità no? forse un'opera letteraria può diventare il il recipiente di un fatto storico ma diventarlo per caso risulta che è diventato questo ma non così questa questa idea questa volontarietà di esserlo mi sembra un po' un po' troppo no? sì allora visto che siamo su questa linea lei ha parlato anche di fatti storici e ha accennato alla necessità comunque di gestirli non narrativamente ma in maniera politica io ho preparato una domanda che ci ho messo molto per farla perché è una delle cose che tormentano me e l'ho scritta per essere sicura di dirla esattamente con chiarezza come l'avevo pensata probabilmente non riuscirò a dirlo con chiarezza però mi domandavo lei si è occupato ripetutamente del fenomeno berlusconiano nei suoi scritti sì ma la domanda che le farò ora non riguarda il berlusconi politico riguarda il berlusconi narratore cioè come paradigma di un fenomeno che riguarda e riguarderà sempre di più il modo di fare politica della nostra modernità che è un modo che definirei letterario mi spiego meglio prendo spunto proprio un attimo un attimo perché berlusconi narratore berlusconi letterario mi sembrano oxymoron glielo spiego bene così le spiego cosa intendo utilizzando questi termini si dice un oxymoron in italiano anche? sì si dice prendo spunto dall'uso della parola amore perché l'abbiamo ripetutamente richiamata anche come tema del suo libro nell'ultimo ventennio in Italia questa parola è entrata di prepotenza nel linguaggio politico ed è stata utilizzata per radicalizzare il conflitto tra le parti identificate esplicitamente in partito dell'amore e partito dell'odio l'amore vince sempre sulla violenza e sull'odio è uno degli slogan politici di Berlusconi che lui ha utilizzato ripetutamente la domanda che le faccio è che naturalmente l'amore si personificava in lui medesimo durante quegli anni la narrazione letteraria ha perso completamente il residuo di potere che aveva sulla generazione dell'immaginario pubblico e il suo ruolo è stato sostituito dalla narrazione politica questo me lo sto dicendo me lo chiede glielo sto dicendo come dato perché diciamo che questa modalità questa nuova modalità che è anche un nome che viene dall'America si chiama storytelling proprio politico è diventato un modo per controllare il consenso popolare attraverso tutta una serie di strumenti di narrazione che sono anche i media ma anche un rinnovamento del linguaggio che presentava questi furti al linguaggio dell'intimità amore non è stata mai una parola politica è sempre stata una parola intima una parola familiare ora la domanda è questa se la politica si è fatta in qualche modo letteratura nel senso che ha fatto proprio il linguaggio dell'intimità che spetterebbe alla letteratura in Italia alcuni scrittori hanno dovuto far diventare la loro scrittura più politica proprio in risposta io le chiedo se ha sentito il dovere di occuparsene persino lei che italiano non è io ricordo un suo scritto specifico proprio su questo in che modo l'atto di scrivere e di leggere può rappresentare una forma di resistenza all'uso manipolatorio dei temi più delicati della nostra umanità diciamo che non so questo lei l'ha detto proprio una cosa è uno slogan un'altra cosa è una narrazione allora mi sembra che questa questa cosa questi slogan di Berlusconi che non ero molto consapevole di l'amore come triunferà e cose così l'amore vince sempre sulla violenza e sull'odio questo sembra più una cosa pubblicitaria la parola amore si è utilizzato molto nella pubblicità e allora sembra ancora uno slogan pubblicitario più che uno slogan narrativo o letterario diciamo questo sarebbe al mio parere concedere troppo a a questo politico per il fatto questo ad altri ad altri perché diciamo il livello letterario narrativo dei politici attuali magari con qualche eccezione non è molto grande al mio parere allora sono piuttosto quello che si può succedere quello che si è l'ultima parte della sua domanda questo si non soltanto con i politici ci sono delle cose ho scritto recentemente un articolo di stampa di questi che faccio io tutte le domeniche sul paese semanale nel quale parlavo per esempio del del pericolo di che uno dicevo gli scrittori gli autori o gli artisti in generale non sono responsabili dei suoi fan o dei suoi adoratori ma ci sono adoratori o ci sono fan pericolosissimi per un per uno scrittore per esempio io dicevo dicevo per esempio io sono stato sul punto di trovare Antipatico che vedo che è un grandissimo poeta spagnolo del del seicento per l'insistenza in ammirarlo che aveva questo scrittore contemporaneo mio per esempio adesso c'è un altro scrittore che io trovo spaventoso che ha scoperto Chesterton e che ha un entusiasmo insistente e pertinace con Chesterton e poi per sottolineare soprattutto il cattolicesimo di Chesterton che era un cattolicesimo ingegnoso tolerante che non ha niente da vedere con quello della ierarchia ecclesiastica spagnola per esempio ma sarà difficile che Chesterton in Spagna almeno si ricopperi di questa di questa ammirazione questo è vero questo questo siamo tutti siamo tutti in pericolo di io ricordo che una volta molti anni fa verso l'anno 95 avevo pubblicato domani nella battaglia pensa a me poco prima l'anno 94 e allora c'erano delle elezioni fra Felipe González e Aznar e allora ci sono stati due reportaggi una settimana l'uno l'altra settimana l'altro e in una dicevano vediamo sul tavoletto di notte come si dice il tavoletto di luce il comodino di mesiglia di nocce sul comodino di notte vediamo pochi libri fra altri domani nella battaglia pensa a me di Javier Marias e all'altro non ricordo quale chiedevano quali sono gli autori contemporanei che legge o che le piacciono e beh menzionava tre o quattro allora ricordo che un giornalista mi ha detto cosa le pare che tutti e due abbiano in questi reportaggi e ho detto beh io non sono responsabile di chi mi legge in ogni caso è vero ma ci sono cose e allora lo stesso succede con parole lo stesso succede con e questo è un pericolo io ricordo una volta negli anni settanta ho viaggiato in Germania una volta allora ho conosciuto uno scrittore che poi è morto che si chiamava Hubert Fichte e ho parlato con lui e mi diceva che i nazisti avevano lasciato la lingua tedesca inservibile per molto tempo totalmente inservibile che avevano l'avevano manipulato in tale modo l'avevano contaminato in tale modo durante il suo periodo che veramente era difficile era diventato difficile recuperare una lingua tedesca che non fosse che non che non che si collegata che non che non che non avesse una remiscenza immediata di questa manipolazione del linguaggio che avevano fatto questo è un rischio questo può accadere sempre ovviamente anche in spagnolo ci sono parole che ancora sono contaminate non la lingua per fortuna ma ci sono parelli per esempio quali parole patria ovviamente patria patria si dice lo stesso allora si è fatto tanto abuso della patria la patria la patria e poi non so l'espressione una grande i libri per riferirsi alla Spagna una grande i libri non sono per sé diciamo pericolosi non sono per sé condannabili ma insieme viene immediatamente il grido di questa gente questo può accadere può succedere in questo senso sì bisogna ma non si può evitare quando succede non si può e meno ancora adesso se i nazisti avessero avessero avuto la televisione figurati come sarebbe stato non aveva una televisione ancora e poi se se poi leggere o scrivere può contrarrestare in qualche modo no penso di no penso di no penso che che la capacità diciamo a un livello individuale strettamente individuale forse sì si può pensare diciamo che cosa è? no un biglietto non so messaggio da Einaudi dobbiamo finire puoi dire che firmerai i libri alla fine? ah va bene l'ho detto no se per caso se per caso era qualcuna manovra contro di me o segreta no penso che a un livello strettamente individuale delle persone si può aiutare in un certo senso ma diciamo per un per l'insieme della società no diciamo che che l'influenza la possibilità che un libro che un scrittore abbia un'influenza sull'insieme della società non so io per esempio quando scrivo i miei romanzi l'ho detto sempre sono uno diverso di quello che scrive gli articoli di stampa il romanziere non c'entra lì gli articoli di stampa gli scrive gli scrive il cittadino un cittadino che scrive ma un cittadino soprattutto e infatti sono più tento di essere anche se critico molte cose eccetera e a volte sono molto arrabbiato con cose tento di essere più ottimista negli articoli di stampa di quanto non sia nei romanzi nei romanzi uno dice più la verità infatti di quanto non la dica perché se uno scrive se uno scrive la verità 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 delle cose di come le vede sulla stampa questo è troppo deprimente per la gente bisogna bisogna tentare di fare un po' perché le cose siano migliori se no è un po' assurdo scrivere sulla stampa una geremiada dopo l'altra sicuro geremias geremiade sì geremiade lo stesso una geremiada dopo l'altra ma diciamo che la sensazione che io ho visto che c'è molta gente che apprezza questi articoli ma ho sempre la sensazione si apprezzano perché è un po' è un po' confortante leggere nella stampa questo ah meno male che c'è qualcuno che dice questo sì lo dice e e niente cambia questo è molto diverso almeno di 30 anni fa era diverso dipende un certo scrittore un certo scrittore scriveva un articolo su una questione politica e poteva poteva darsi che il politico anzi il presidente del governo chiamasse questo scrittore con buona fede e dire senti questo che è scritto davvero tu lo vedi così 30 anni fa soltanto in Spagna forse la Spagna era un po' naif in quel momento perché la democrazia era recente eccetera adesso questo sarebbe impossibile immaginare questo è come se uno non avesse detto niente io sono più ottimista su questo sì forse perché ho cambiato molti dei miei comportamenti perché qualcuno che aveva voce pubblica ha detto non quello che io non sapevo ma quello che non sapevo dire sì e da quel momento non ho più potuto fare finta che non fosse stato detto sì no questo è vero ma questo a titolo individuale di nuovo per quello che dice ah sì oppure questo non l'avevo pensato così e invece ha ragione per esempio no questo può darsi ma diciamo quelli che sono impenetrabili sono quelli che hanno le responsabilità che hanno il potere di cambiare le cose questi sono totalmente impenetrabili in questo momento così impenetrabili che io ho sempre di più la sensazione che i politici attuali in Spagna certamente ma temo che dappertutto sembrano sempre di più la polizia la polizia dei finanzieri della finanza fanno quello che la polizia fa per loro loro lo fanno per non so le finanze allora un poliziotto normalmente obbedisce ordine e basta nemmeno nemmeno reagisce ok per non lasciarci su questa nota così un po' dolente no ma la prova che non la prova che non sono così pessimista è che vengo vengo scrivendo questi articoli settimanali 18 anni e ancora non ho smesso dunque sarà perché nel fondo penso che serve a qualcosa bene io chiederei lascerei spazio per due domande se ci sono e poi chiederei a Isabella di chiudere con la voce del libro gli innamoramenti di Javier Marias ok due prenotate un e due questo voler dimenticare elementi della storia non è dimenticato per ciò o per ciò non ho sentito bene questo voler dimenticare elementi della storia accadimenti della storia anche pesanti non è un po' non è un voler riscrivere dimenticare la storia cambiarla tipo Orwell non è riscriverla se si dimentica e forse è meglio che li portiate un microfono perché non riesco a sentirlo bene neanch'io se si dimentica cambia il corso della storia no non esattamente quello che non so ricordo che in uno dei miei libri un libro che non forse non è piaciuto molto e invece è uno dei quali che io preferisco c'è un passaggio nella schiena del tempo si chiama c'è un passaggio nel quale si ricorda si ricorda quello che le che le madri o le mamme che le mamme dicono eh quello si dicono dicono ai bambini quando si fanno male o piangono dicono almeno in spagnolo già sta già passò basta già è già passato cioè letteralmente non è successo niente ma anche si potrebbe intendere è già passato è diventato già passato ti faceva male ma non ti fa più male allora c'è a questo dopo questo viene una piccola riflessione sul fatto se le cose quando smettono di accadere diventano meno gravi di quanto non siano mentre accadano ed è vero fino a un certo punto per esempio quando c'era la guerra di Iraq recente quando ancora cadevano le bombe diciamo diciamo c'erano i bombardimenti più dell'inizio penso che la gente era molto più angosciata di quanto non fosse una volta che questa parte questa fase di questa guerra si è fermata perché il fatto che sia successo per me in un certo senso è abbastanza grave il fatto che sia cessato non lo fa meno grave ma in un certo senso è vero che è meno grave o che si sente come meno grave in questo senso bisogna sapere che una cosa successa è successa ma se non sta succedendo più è più sopportabile in questo senso magari è necessario che arrivi un momento nel quale forse si dimentichi questo è successo come abbiamo dimenticato la guerra di Cuba in Spagna molta gente è morta in quella guerra oppure ovviamente la guerra contro Napoleone nel 1812 1808 al 13 una cosa del genere bisogna che ci sia un momento e si comincia per questo sì è successo è gravissimo ma non sta succedendo più e questo è una piccola cosa sì provi ad alzarsi a parlare ah ecco buonasera buonasera visto che Shakespeare è molto presente nei suoi libri volevo chiederle qual è il suo rapporto con lui debito è veramente un rapporto di debito perché ho preso tre o quattro titoli dei miei libri di citazioni o parafrasi di lui beh a parte questo certamente è un autore che io rilego molto è curioso perché io conosco molti scrittori che una volta che hanno conosciuto i grandi diciamo della letteratura normalmente non vogliono rileggere più questi grandi per una ragione molto semplice che sono scoraggianti scoraggianti si dice è vero uno comincia a leggere Conrado comincia a leggere Lampedusa che a me è entusiasma o comincia a leggere Bassani anche che trovo straordinario veramente non so in Italia se lo considera ancora come un grande in Spagna è molto dimenticato in questo momento anche in Italia in Italia non si dovrebbe dimenticare un autore come quello è una gioia nazionale penso oppure Henry James o Faulkner o Flaubert o Montaigne o tutti questi sì veramente uno ha la sensazione di dire ma cosa faccio io con questo mazzo di carta mazzo no pila di carta pila di carta sì con questa pila di carta è meglio che continui vuota no perché lei scrive con la macchina da scrivere scusi ah questa cosa questa cosa antica già che pila di carta primitiva anzi sì di carta sì di carta ancora in bianco sai la pagina in bianco tutta quella metafora immagino che adesso sia lo schermo in bianco sì allora uno ha la sensazione di dire ma cosa faccio io con questa pila di carta non so non vale la pena nemmeno che che bisogna c'è invece a me non succede così almeno con alcuni di questi per esempio con Shakespeare mi risulta moltissimo stimolante mi risulta fertile mi fertilizza si potrebbe dire perché è uno che è grandissimo e evidentemente sarebbe assurdo pensare alla possibilità di paragonarsi con lui o con tanti altri ma è uno che giustamente ha riuscito ad essere non solo grande ma anche molto spesso enigmatico misterioso dice delle cose che uno capisce alla prima lettura e poi torna e dice un attimo questo l'ho capito e continuato con tutta normalità ma vediamo perché questo è molto strano esattamente cosa sta dicendo ci sono tante strade laterali che poi lui non ha esplorato le ha lasciate c'è un accenno di qualcosa che ti fa pensare che ti fa pensare la possibilità di esplorare quello che lui ha soltanto suggerito allora in questo senso lo leggo non solo perché mi piace moltissimo non solo perché le deba titoli ma anche perché mi aiuta a scrivere mi stimola a farlo è una relazione veramente di gratitudine da parte mia in tutti i sensi bene io chiedo a Isabella di chiudere con l'ultima lettura e poi ci salutiamo e appunto Avier Marias firmerà i libri perdoni l'intrusione le dissi stando in piedi lei non si alzò immediatamente mi chiamo Maria Dolz e lei non mi conosce ma per anni ho incrociato qui lei e suo marito all'ora di colazione volevo soltanto dirle che mi è dispiaciuto moltissimo dell'accaduto di quello che è successo a lui e di quello che starà passando da allora l'ho letto sui giornali in ritardo dopo aver sentito la vostra mancanza per varie settimane anche se vi conoscevo solo di vista si vedeva che stavate molto bene vi trovavo molto simpatici davvero mi dispiace molto mi resi conto che con la mia penultima frase avevo ammazzato anche lei avevo usato il passato per riferirmi a tutti e due non soltanto al defunto cercai come rimediare ma non mi venne in mente nessun modo che non complicasse immotivatamente le cose e che non fosse troppo rozzo immaginai che mi avesse compreso i due come coppia mi apparivano graditi e in quanto tali ormai non esistevano più allora pensai che forse le avevo sottolineato quanto lei cercava di sospendere o confinare in una specie di limbo ad ogni istante perché le sarebbe stato impossibile dimenticarlo negarselo che non erano più due e che lei non faceva più parte di una coppia stavo per aggiungere tutto qui non la trattengo oltre volevo soltanto dirle questo e girarmi e andare quando Luisa si alzò sorridendo era un sorriso aperto che non avrei potuto schivare quella donna non aveva ambiguità né malizia poteva perfino essere ingenua e mi prese affettuosamente per la spalla dicendomi sì certo che ti conosciamo di vista anche noi mi diede del tu senza esitare nonostante che poco prima io non lo avessi fatto eravamo più o meno della stessa età forse lei aveva un paio di anni in più parlò al plurale e al presente indicativo come se ancora non si fosse abituata a essere una nella vita o forse come se si considerasse già dall'altra parte morta come suo marito e pertanto nella stessa dimensione o territorio come se non si fosse ancora separata da lui in ogni caso e non vedesse ragione alcuna per rinunciare a quel noi che sicuramente l'aveva condizionata per quasi un decennio e da cui non si sarebbe distaccata in tre miseri mesi anche se subito dopo passo invece all'imperfetto forse il verbo stesso glielo imponeva ti chiamavamo la giovane prudente vedi per noi avevi anche un nome grazie per quello che mi hai detto non vuoi sederti e mi indicò una delle sedie che avevano occupato i suoi figli mentre mi teneva ancora la mano sulla spalla adesso ebbi la sensazione di esserle di sostegno o d'appiglio fui sicura che se avessi fatto un minimo cenno d'avvicinamento mi avrebbe abbracciata naturalmente appariva fragile come uno spettro recente che esita e non è ancora convinto di esserlo guardai l'orologio era già tardi avrei voluto chiederle di quel mio soprannome ero sorpresa e leviamente lusingata si erano accorti di me parlavano di me mi avevano identificata sorrisi senza volere tutte e due sorridevamo con un'allegria timida quella di due persone che si riconoscono nel ben mezzo di circostanze tristissime la giovane prudente dissi sì questo è quel che ci sembri di nuovo era tornata al presente indicativo come se De Verne fosse a casa e ancora vivo o che lei non potesse staccarsi da lui più che per qualche concetto non ti sarà dispiaciuto ti prego lo spero ma siediti no come potrebbe dispiacermi anch'io chiamavo voi in un certo modo mentalmente non era che non volessi darle del tuo a mia volta ma non mi azzardavo a farlo con il marito e con quella frase era tornata a includerlo ancora meno ci si può riferire con il nome di battesimo a un morto che non si è conosciuto o non si deve oggi nessuno rispetta tali sfumature tutti si prendono confidenza adesso non posso fermarmi quanto mi dispiace devo andare al lavoro guardai ancora l'orologio automaticamente a confermare la mia fretta sapevo bene che ora fosse certo se vuoi rimandiamo più tardi passa da casa a che ora esci che lavoro fai e come ci chiamavi mi teneva ancora la mano sulla spalla non mi sembrò un'imposizione piuttosto una richiesta una richiesta superficiale questo sì del momento se le avessi detto di no probabilmente la sera avrebbe già dimenticato il nostro incontro non risposi alla sua penultima domanda non ce n'era il tempo e ancora meno all'ultima dirle che per me erano la coppia perfetta avrebbe potuto aggiungere dolore e amarezza isabella grazie grazie grazie